Salve a tutti ragazzi, qui è Gimbaladora 1997 insieme a... Like Gameroni E qui stiamo facendo un video di Black Ops in gioco delle armi Una bellissima modalità dove bisogna uccidere le persone per avanzare di livello Sloccare nuove armi sempre più forti per molestare un pochino gli altri giocatori Questa mappa è Silo del pacchetto Annihilation Questa è la prima volta che la gioco, quindi se faccio leggermente schifo non è colpa mia E' di qua tutto Io proprio quasi non ho giocato tutte le mappe, quindi lui neanche ha Black Ops E' ovvio che faccio schifo, infatti i tempi d'oro a cui Accordo 4 era un bravo ceppino Sono terminati e sepolti, ormai Tra tutto lui ha anche Xbox, non ha in live Quindi neanche può giocare online e confrontarsi un po' meno di più con le altre persone Tu muori Forever Alone Ecco bravo Allora, dovresti farti regalare un mezzo di live Ma non me ne fotte un cazzo Perché giocare in live quando puoi tranquillamente stare al computer senza aprire una ceppa e giocare? Eh, io con i miei mentino Ora, spero di non trovare qualche troll che va in giro ad accoltellare e basta Perché io li odio Devi accoltellare solo chi è il balistico Eh certo Ma quando gioco contro Diego la accoltella e basta Ah certo, allora non sono bastardo Grazie, modestamente Tu abbiamo la stessa arma No No Log No, sei secondo? Zippo Ma davvero? Your second Sì Questo è il commento del più bello con lo spirito che abbia mai visto Oh, io Io non lo sto Per tutti gli spettatori Se magari volete vedere dei video Capitate sul mio canale Si chiama Like Camerone come avrete intuito Un'escrizione che non ce la metterò Sì che ce la metterai Caricherò Per ora ho caricato solo due video Ma presto caricherò altri video Di giochi della Valve come Team Fortress, Portal, Half-Life Principalmente farò easter egg Ma non escludo che in un futuro magari remoto Farò qualche let's play di giochi In quanto possiedo anche la Blade 2 E quindi niente Se volete iscrivetevi Guardatevi l'amicizia Io e Di Maradona siamo soci Si tipo oggi mi è tornato a casa Ah non siamo fratelli eh Però a casa Ci chiamiamo tutti e due Diego Ok fantastico E siamo definitivamente i migliori amici Va bene E E Bastardo Diego l'hai chiamato L'hai chiamato Ho chiamato lì Quello che accoltella No Si cazzo Ce l'hanno che vengi raccoltellare Ah ok Mi dispiace per controllo Non date Non fate caso Allo spoco giovanile E adolescenziale Di Di Maradona 1997 Se cazzo Lalla Ok comunque Stavo dicendo Avevo dire due cose Una me la sono scordata L'altro è Che la Ho trovato il tristo Mi editore Scusate per lo spoiler Poi Prego un tino Di Maradona L'altra No ok E Vaffanculo L'altra Questo è vaffanculo Per tutti gli spettatori Scusate No però Dai cazzo Cazzo di arlo Allora La qualità è una merda perché l'HGTVR io non me la prenderò mai Se me la regala Babbo Natale un giorno, ok Però se no, questa sarà la qualità Magari giochi su PC Che ne ho abbastanza, qualche cosa lì sarà sicuramente la qualità migliore Comunque questa merda di coso Comunque renderizzo in 480 volt con questa telecamera E lo dovrei mettere in HD da Sony Vegas Ho la balestra e questo stronzo qui non è morto Dai cazzo, io l'ho attaccata Non mi hai fregato lo dillo Ok, siccome sono al balistico, ragazzi, questa partita finirà presto Cioè presto, insomma, non so quanti minuti stiamo registrando Bella lì Sono passato da secondo tra gli ultimi Ok, complimenti Grazie Questa è la conclusione del video Vi lascio in questa keyscam Ciao a tutti ragazzi da Di Maradona e Like Gambrone Yay Grazie Ciao a tutti